L'Abruzzo è una regione molto interessante. Oltre a una grande varietà enogastronomica nasconde una doppia anima, montuosa e marittima. Storicamente però la regione italiana è stata abbastanza isolata e questa l'ha resa oggetto di interesse di importanti campagne etnografiche soprattutto in tema di magia e religione popolare. Una su tutte, quella condotta tra il 1973 e il 1993 da Alfonso Di Nola ci ha permesso di affacciarci per la prima volta sul meraviglioso mondo delle credenze magico-religiose della popolazione abruzzese e dei meccanismi mitico-rituali ad esse sottostanti. Ed è proprio da Di Nola e dal suo concetto di finzione rituale che voglio partire per parlarvi del fenomeno della mutanza. Se non ci siamo ancora incontrati io sono Giovanni Avornia, sono uno psicologo e attraverso il progetto di Etnopsi voglio condividere con voi il mio interesse per tutto ciò che riguarda cultura, tradizioni, usi e costumi e soprattutto per come questo vada ad influire sulla psicologia di ognuno di noi. Prima di iniziare quindi vi invito ad iscrivervi al canale così da contribuire in maniera diretta alla crescita di questo progetto che grazie anche ai vostri contributi ho intenzione di ampliare sempre di più. Detto questo bando agli indugi, parliamo della mutanza. Torniamo quindi a Di Nola e al suo concetto di finzione rituale. Che cos'è la finzione rituale? Lì a Gian Cristofaro ce la descrive brillantemente come quella pratica popolare che attraverso un intervento soprannaturale riesce a trasformare in positivi elementi normalmente considerati pericolosi. Di Nola studia questo fenomeno attraverso un caso studio e cioè quello del rituale di San Domenico che si svolge a Cocullo in provincia di L'Aquila e che consiste nell'addomesticare simbolicamente dei serpenti ad opera della statua del santo che quindi opererebbe su di loro il miracolo della perdita del veleno. Gian Cristofaro ci fa notare come questa pratica possa richiamare sì all'addomesticazione del male attraverso un rito religioso ma cosa più importante è espressione del superamento di una vecchia dicotomia e cioè quella tra medicina ufficiale e medicina popolare. Ed è proprio su questo filone che si muove una ricerca condotta proprio da Lì a Gian Cristofaro e pubblicata nel 2021 sulla rivista L'Autre riguardante il fenomeno della mutanza in terra molisana e abruzzese. Che cos'è la mutanza? Ad oggi non si ha davvero una definizione di che cosa sia nello specifico anche perché le sue manifestazioni cambiano e vengono interpretate in maniera diversa a seconda del passare diciamo così degli anni ma se volessimo semplificare al massimo potremmo descriverla come un fenomeno che riguarda funzioni cognitive e il corpo in generale e che ha a che fare con un palese cambiamento della persona. La persona si trasforma, non la riconosciamo più. Attraverso uno studio sul campo e un altro fatto sugli scritti di Gennaro Finamore, medico e folclorista abruzzese che per anni si è interessato alla tematica della medicina popolare, Gian Cristofaro e colleghi hanno notato come per almeno due secoli sia la popolazione molisana che quella abruzzese abbiano associato ai fenomeni della mutanza le manifestazioni dell'epilessia, le convulsioni, i tremori, gli spasmi, l'aggressività incontrollata, la perdita di coscienza, il fissare il vuoto, insomma tutte le manifestazioni comprese nel pacchetto dell'epilessia sono state associate quindi sovrapposte alle manifestazioni tipiche delle persone soggette alla mutanza. Non sto qui ad approfondire cause e effetti dell'epilessia, non è questa la sede ma per chi volesse approfondire l'argomento vi lascio qui su youtube in descrizione al video una playlist molto ben fatta della lega svizzera contro l'epilessia. Quello che mi interessa sottolineare è come sia stata vista questa patologia nel corso degli anni, anche perché prima di diventare un disturbo neurologico è stata prima una malattia sacra e subito dopo una manifestazione concreta di una possessione demoniaca. Già dai tempi di ippocrate infatti l'epilessia rientrava in quelle manifestazioni legate alla testa che non potevano essere controllate e che causavano uno stato di momentanea perdita di coscienza che trasformava il soggetto in una persona in grado di transitare tra la vita e la morte. Come tale quindi veniva considerata come una malattia sacra e per questo poteva e doveva essere curata solo attraverso un intervento soprannaturale. Con l'avvento del cristianesimo però l'ambiguità portava con sé si trasforma in una certezza. È qualcosa di negativo, qualcosa che ha a che fare con il male. L'epilessia e le sue manifestazioni diventano quindi una malattia demoniaca che può essere curata solo ed esclusivamente attraverso l'intervento del monaco esorcista che agisce per intercessione di un santo guaritore. Nel caso dei dolori riferiti alla testa e quindi in qualche modo anche alle manifestazioni tipiche della mutanza il santo guaritore di riferimento che ha il compito di alleviarne, eliminarne o prevenirne le manifestazioni è San Donato. Non a caso il santo è morto per decapitazione e questo ci fa capire molto bene il simbolismo sottostante la sua devozione. Ad ogni modo fino agli anni 80 nel giorno della ricorrenza della decapitazione del santo quindi il 7 di agosto nella chiesa di Celenza sul Trigno in provincia di Chieti e in tanti altri santuari dedicati proprio a San Donato si svolgeva il rito della pesatura nel quale chi soffriva di mal di testa consegnava ai sacerdoti tanto grano quanto era il suo peso corporeo. La persona che si voleva far guarire o che si voleva proteggere dal male veniva fatta sedere su un piatto di una grande bilancia di legno mentre sul piatto opposto venivano posizionati appunto i sacchi di grano e l'uguaglianza tra il peso della persona e il peso del grano donato era la piena rappresentazione della redenzione. Il sacerdote poi attraverso delle formule di esorcismo liberava definitivamente la persona dal male. Questo è come veniva letta e interpretata e affrontata la mutanza fino agli anni 80 ma oggi stando a quanto riportato dalla ricerca di Lia Giancristofaro e dei suoi colleghi il fenomeno della mutanza è ancora attivo all'interno della collettività abruzzese e molisana. Quello che però è cambiato è l'interpretazione delle cause che portano a manifestazioni della mutanza in quanto mentre prima c'era appunto l'epilessia o il malocchio adesso a questi fattori ne vengono associati altri che hanno molto a che fare con l'attualità come per esempio l'inquinamento atmosferico, l'eccessiva presenza di radiazioni magnetiche o addirittura il SARS-CoV-2. Un elemento molto interessante riguarda una causa in particolare che sono i vermi intestinali. Spesso appunto episodi di mutanza vengono visti come rappresentazioni innescate dalla presenza quindi di vermi intestinali e questo ci mostra come ci sia stato nel corso degli anni uno spostamento dei sintomi dalla testa alla pancia. Oggi inoltre la mutanza viene curata attraverso i reiki oppure dei bagni di acqua calda e petali di rosa mentre la devozione a San Donato si è man mano trasformata in delle preghiere da svolgere singolarmente e molto spesso dedicate a Padre Pio. La cosa che mi preme sottolineare a questo punto è come la mutanza abbia subito una trasformazione nel corso degli anni, trasformazione che va di pari passo con il mutare del sistema socioculturale. Negli ultimi decenni infatti ad un crescente interesse nei confronti della neurologia per spiegare i sintomi legati alla mutanza e alle sue manifestazioni ha fatto seguito una cessazione dei pellegrinaggi o dei riti pubblici di esorcismo o in generale diciamo della devozione a San Donato perché considerate in qualche modo espressione di una sorta di pensiero selvaggio. Si è verificato così uno spostamento della presa in carico se così vogliamo chiamarla della persona malata dal santo e quindi dalla collettività, dal riconoscimento collettivo di una forma di disagio a singoli guaritori o pranoterapeuti. Direte voi perché questa cosa ci interessa? Ci interessa perché lasciando per un attimo da parte la dinamica di dipendenza psicologica che si instaura tra guaritore e persona che ha bisogno d'aiuto, a livello psicosociale vengono meno tutti quei sentimenti di appartenenza collettiva che in qualche modo legano i fedeli durante l'atto della devozione al santo. Viene meno quella forma di solidarietà verso i sofferenti tipica del rito pubblico o comunque del pellegrinaggio e questo costringe la persona a rivolgersi a singoli individui o ad associazioni territoriali quindi chiudendosi in una dimensione privata e a volte addirittura nascosta. E questo va da sé che bene non fa. Bene questo era quello che avevo da dirvi. Vi lascio come al solito nella descrizione al video di youtube tutto il materiale dal quale ho preso informazioni per scrivere questo video. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se avete domande scrivetemene pure qui tra i commenti su youtube o meglio ancora via telegram mi trovate come chiocciolina giovanna mornia. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video a presto e mi raccomando lasciatevi affascinare dalla cultura. Ciao a presto